Molto semplice, vedete? Qualcuno secondo me l'ha già fatto, infatti. Precisamente ho un messaggio per la numero 13, ragazzi. Chi è questa donna fortunata? Chi è che ha fatto 13? Dov'è? Eeeh, questa bellissima donna, ma ciao! Ciao, 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 carissima, come ti chiami? Mi raccomando con queste signore, non parlate in dialetto, si parla in italiano. No, 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 è guai se tirate fuori i telefonini che ve li tiro in testa. Io sto lavorando. Pianza, lavora, si passa vita, eccetera, eccetera. E viene qua stesso, bellissima, bravo. Come lo resta in un uomo ideale. Allora, al momento non lo sai. Allora, sta dicendo che sto mise piano, ma sta dicendo che sta bene anche se fa uno. se, poveri, poverazzi, ma che ci sono andate da bambiera, da bambiera, da bambiera, da bambiera... Grazie a tutti.